Altro venerdì interessante, bello succulento perché qui dobbiamo risolvere questo limite di successione numerica, limite quando n è finito di questo a con n, dove a con n è il quadrato del fattoriale di n diviso il fattoriale di 2n tutto elevato alla 1 su n. Dunque, detto che, scrivetemi nei post sotto, non scrivetemi solo stupidaggi, scrivetemi quello che volete nei post sotto, non perché mi schierate stupidaggi, scrivetemi dei consigli, magari datemi, formula di Stirling potrebbe essere sicuramente, ma per chi non conoscesse, la formula di Stirling li mostro a lui e a chiunque il metodo delle somme di Riemann, metodo delle somme integrali di Riemann, in pratica lo calcoleremo addirittura con il calcolo di due integrali, di un integrale per parti alla fine di questo limite, incredibile, clamoroso, faccio vedere così, potete, diciamo, risolverlo anche in questo modo, si può risolvere tranquillamente anche applicando rispetto alla formula di Stirling. Intanto, una cosa che va fatta sicuramente è di scrivere il fattoriale di n, tutto quanto al quadrato, diviso il fattoriale di 2n e tutto questo elevato all'1 su n, questo è un esponenziale camuffato, si può scrivere come in generale, lo sapete, questo qua immagino tutti quanti, gli appassionati di seguarci del canale lo sanno, come e elevato all'1 su n, e ln, all'esponente, proprio di questo n fattoriale al quadrato diviso fattoriale di 2n, che poi si potrà scrivere come, essendo ln di a su b scrivibile come ln di a meno ln di b, ovviamente, se andiamo a fare quindi, fare il limite quando n tende all'infinito di questa con n, che abbiamo scritto in questo modo, significa fare il limite dell'esponente, quindi significa fare e, limite, quando n tende all'infinito, proprio di questo 1 su n, e beh, scriviamola a questo punto, ln del fattoriale di n al quadrato, meno ln del fattoriale di 2n, va bene? Adesso prendiamo questa espressione e lavoriamoci un attimo, allora, intanto questo è il primo termine, uno su n lo mettiamo, è davanti, e l'organismo di n fattoriale al quadrato, si può riscrivere applicando un'ulteriore proprietà del logaritmo, ln di a alla b e b ln di a, quindi come 2 ln del fattoriale di n, meno ln del fattoriale di 2n, a questo punto però, si può riscrivere in forma generica, in forma di sommatoria, perché il fattoriale di n è n per n, meno 1 per n, meno 3, il fattoriale di 2n è 2n per 2n, meno 1 per 2n, meno 2 e così via, e quindi questo si può ancora scrivere come, guardate, 1 fratto n, 2, che ovviamente rimane, sommatoria per il momento, per k che va da 1n, in generale del logaritmo di argomento k, meno sommatoria, questa volta per k che va da 1 a 2n, sempre del logaritmo di argomento k. Ma per avere un'unica sommatoria, quindi in entrambi i casi, magari una sommatoria per k che va da 1n in entrambi i casi, beh, che cosa si può fare? Beh, si può scrivere questa ancora una volta come 1 fratto n, ripeto, qui scriviamo somme per k che va da 1n di logaritmo di k, meno, e questo può diventare, si può riscrivere naturalmente, per ovvi motivi come sommatoria per k che va da 1n di chi? Beh, del logaritmo di k più n, no? Siete d'accordo? In questo modo abbiamo due sommatorie identiche. Ora, arrivato a questo punto, io direi di sottrarci qua un ln di n e qui un ln di n, per applicare poi nuovamente due proprietà del logaritmo, che abbiamo applicato al contrario prima. Guardate cosa faccio, eh? Allora, dobbiamo scriverlo qua? Vabbè, ancora, cancelliamo qui, diciamo ancora questo, dunque questo è ancora uguale quindi a 1 su n, 1 su n, allora, k sommatoria per k che va, che è contato da 1 fino a n di, questo lo scriviamo, ln di k meno ln di n, attenzione, e poi ovviamente meno sommatoria, per k che va da 1 a n di chi? Di ln di k più n meno ln di n. In realtà ho aggiunto e tolto il logaritmo di n. Riapplico la vita del logaritmo e questo diventa e, elevato alla limite, quando n è definito, rientroduco il limite, visto che ci sono, di 1 su n che moltiplica. Ed ecco che adesso possiamo cominciare a capire qualcosa, perché abbiamo la sommatoria, la sommatoria per k che va da 1 a n, ovviamente del logaritmo di chi? Di k su n. E beh, a questo punto però, meno la sommatoria per k che va da 1 a n del logaritmo di chi? Allora, questo qui lo scrivo come il logaritmo di, ovviamente, a su b, quindi k più n diviso n. Ma k più n diviso n si può, spezzando in due la frazione, scrivere come k su n più n su n, ma n su n è 1, quindi di 1 più, guarda caso, k su n. Beh, adesso rimoltiplichiamo per 1 su n entrambe le sommatorie e abbiamo proprio la definizione della somma integrale di Riemann, o Riemann, chiamatela come volete. Ne avete presente? Qualcuno, qualche tempo fa, me lo ha chiesto. Dunque, io vi ricordo che, in generale, data una funzione definita in un certo intervallo chiuso e limitato a b, se indichiamo con, come lo andiamo a indicare, con sigma, una scomposizione, una decomposizione di questo intervallo chiuso e limitato a b, possiamo introdurre rispettivamente l'estremo inferiore k e l'estremo superiore k, quindi possiamo dire che l'estremo inferiore è la funzione f di x quando, attenzione, x è compreso tra x, tra, ovviamente, questa dimostrazione la trovate in tutti quanti i libri dobbiamo, in pratica, prendere l'intervallo a b, fare una partizione con a che è x con 0, b che è l'ultimo termine x con n e abbiamo quindi un x con 0, minore di x con 1, minore di x con 2, minore di x con n, minore di x con n più 1 fino ad arrivare all'ultimo. In pratica, ci sarà un estremo inferiore, ognuno di questi intervalli, quindi x con 0, x con 1, x con 2, sarà dotato di estremo inferiore e estremo superiore. Quindi definiamolo l'estremo inferiore k, che è l'estremo inferiore di f di x, quando x è compreso tra x di k meno 1 e x di k, con x di k che però non includiamo. Stesso dicasi per l'estremo superiore, che appunto è il sup di f di x, sempre quando x ovviamente è compreso tra x di k meno 1 e x di k, no? Poi c'è chi indica, c'è chi lo indica anche non necessariamente con, io preferisco indicare x di k meno 1 e x di k, no? Cioè quello che viene prima e quello che viene dopo, x con 0, x con 1, x con 1, x con 2, x con 2, x con 3, questo per intenderci. Ovviamente con k che va da 1 a n. Bene, si può dimostrare che, si può dimostrare, si parla di somme inferiori o somme superiori, quindi s piccolo ed s grande, s piccolo di f di sigma, ma queste cose le trovate anche nel canale, dimostrate. chi sono le somme cosiddette inferiori e le somme superiori di f di sigma? Sono in generale, una è la sommatoria, allora entrambe sono due sommatori, entrambe per k che va da 1 a n, questa inferiore sarà di m di k, per chi? per la differenza di x con k meno x con k meno 1 e questa sarà m grande di k, x con k meno x con k meno 1, ma una è la somma inferiore, una è la somma inferiore e l'altra è la somma superiore. E si dimostra che effettivamente, guardate, questa è l'area di un, è l'area di un, è base per altezza, altezza per base, altezza è la base, evidentemente no? x con k meno x con k meno 1 e quindi si dimostra che l'integrale fra i b di f di x di x o è uno o è l'altro. e quindi avete capito che tornando all'esercizio, ma questo ripeto, non ho capito niente, trovate in tutti i libri anche di analisi queste cose qua, non dovreste mai avere problemi e dovreste conoscere questo concetto, integrale, integrabilità secondo Riemann, cercate insomma somme integrali di Riemann come volete, bene, che cos'è? Allora, questa qui la riscriviamo ancora come è, abbiamo il limite per n, chi è il limite per n che viene definito di 1 su n sommatoria per k che va da 1 a n del logaritmo di k su n? meno, limite quando viene definito di 1 su n sommatoria per k che va da 1 a n del logaritmo di 1 più k su n, vista una si vede anche l'altra, da chi è questa? ma guardate un attimo, l'avete riconosciuta chi è? dove l'1 su n posso portarlo anche dentro? questo non è altro che, allora, il primo è l'integrale proprio, tra 0 e 1 df di x di x, 2f di x è il logaritmo di x, naturale, no? meno, questo è sempre l'integrale, tra 0 e 1, no? tra e b, di chi? beh, se questa è l n di x, 2f di x, 1 di x, saperate questo? allora, consideriamoci questa differenza così è molto più semplice rispetto secondo me alla formula di steering perché la formula di steering, infatti uno può anche non ricordare e non viene fatto in tutti quanti i programmi non è che uno mi dirà, vabbè, ma neanche le somme integrali di Riemann? no, beh, bugia, insomma il concetto di integrale di secondo Riemann in un qualsiasi corso di analisi dovrebbe essere fatto poi ovviamente ognuno ha il suo corso di analisi, no? e va bene ma chi è? allora, come possiamo scrivere? in generale questo lo possiamo scrivere come un unico integrale tra 0 e 1 del logaritmo di x meno il logaritmo di x più 1 no? tutto in dx, no? l'integrale è sempre fra 0 e 1 e possiamo riapplicare per l'anedisma volta la proprietà dell'integrale secondo cui il logaritmo di a, il logaritmo di b e il logaritmo di a su b quindi questo è uguale all'integrale tra 0 e 1 di chi? di ln di x fratto x più 1 che come vi dicevo è un normalissimo integrale che si può risolvere per parti dove questo qui è il nostro fattore infinito il fattore differenziale è il dx quindi questo sarà pari a x proprio ln di questo x fratto x più 1 meno e questo lo comprende, lo facciamo indefinito quindi tra 0 e 1 meno l'integrale sempre tra 0 e 1 di chi? allora io vi ricordo che scriviamolo qui quindi chi è l'integrale tra 0 e 1 di ln di questo rapporto x fratto x più 1 di x sarà ovviamente x ln di x fratto x più 1 con forma integrale per parti che comprendiamo tra 0 e 1 meno l'integrale della 0 e 1 sicuramente di x per la derivata del nostro logaritmo di x più x più 1 che andiamo a fare qua sotto no? molto facile tutto secondo me è molto facile ne faremo degli altri magari in futuro esiste dove utilizziamo sempre questa somma integrale di rima molte volte viene bene utilizzarla chi è la derivata di ln di x fratto x più 1? per definizione vi ricordo che la derivata del logaritmo di f naturale è 1 su f quindi vuol dire ribaltare quindi scrivere x più 1 fratto x per la derivata di questo quoziente che è il quadrato di x più 1 derivata del primo del numeratore che è 1 per x più 1 non derivato che è x più 1 meno la derivata di quello di sotto che è 1 più 0 è 1 per x non derivato che è x se ne vanno x meno x si trova quindi in definitiva che semplificando questo x più 1 con il suo x più 1 viene un 1 fratto x proprio per x più 1 al denominatore è un'espressione che in realtà si conosce e vedete che in effetti abbiamo questo x per x più 1 al denominatore in dx se ne vanno anche x e x l'integrale di 1 su x più 1 è il logaritmo naturale del modulo di x più 1 e in definitiva pertanto possiamo allora dire che tutto questo abbiamo scoperto essere è elevato allora x ln di x fratto x più 1 tutto quanto poi alla fine lo comprendiamo direttamente alla fine tra 0 e 1 meno il logaritmo di 1 più x tutto tra 0 e 1 il modulo qui non c'è bisogno di mettere assolutamente risolviamo appliciamo la quantità del calcolo tenendo conto qui possiamo cancellare tutto perché intanto ormai siamo arrivati ed è un risultato che sarà è un risultato verificato con Wolfram Alpha con i vostri software che immagino siate pieni zeppi di software a casa avete più software quasi quasi che penning che penning per scrivere cancelliamo il punto di domanda che siamo quasi pronti dunque allora notiamo che la prima parte è immediata quindi viene e elevato andiamo a mettere questo vi avrebbe e elevato 1 per il logaritmo di un mezzo meno il logaritmo di 2 dunque poi c'è la seconda parte la seconda parte viene qui se metto 0 viene il logaritmo di 1 che è 0 quindi più il logaritmo di 1 è 0 poi verrebbe meno e c'è da fare dovremmo fare il limite quando p tende a 0 da destra no? 0 da destra di p ln di p fratto p più 1 va bene? allora qua possiamo già fare 1 per ln di un mezzo è ln di un mezzo ln di un mezzo è ln di uno ln di uno meno ln di due quindi questo possiamo scrivere che qua vale uguale e elevato viene logaritmo di 1 che è 0 meno ln di due meno ln di due poi è rimasto qui sopra questo limite è qui consideriamo un altro questo limite dovreste sapere che è sicuramente 0 perché è un 0 per verrebbe un 0 per che cosa? allora 0 per chi? allora andiamo a fare il limite quando p chi è il limite? quando p tende a 0 destro di ln di p fratto p più 1 è ln di 0 destro che per definizione m è infinito sarebbe 0 per infinito ma questa forma quando abbiamo un x al alfa per un logaritmo di x è sempre nulla cioè non sappiamo da un limite notevole che questo limite è sicuramente 0 provate a dimostrarlo si potrebbe anche farlo proprio in questo modo per dimostrarlo ma se facciamo questi argomenti sicuramente questo non sapete questo è il limite per p che è da 0 da destra di ln di p fratto p più 1 tutto diviso 1 su p per esempio no? poi abbiamo il meno davanti tra l'altro questo si può ancora scrivere guardate in questo modo p su p più 1 questo si può ancora scrivere come il limite quando p tende a 0 da destra di ln di allora p su p più 1 è un p più 1 su p alla meno 1 quindi questo si può scrivere come p più 1 su p alla meno 1 tutto diviso 1 su p evitate di fare come vedo molte volte vedo delle risoluzioni di qualcuno questo è più veloce non si può fare questo ragazzi non è non stiamo non stiamo mercanteggiando delle mela delle pere su ingegnere dei suicidi ogni tanto vedo delle risoluzioni dei ragazzi questo diverge non si può questa è una porcata pazzesca non si può dire pur parlese si può pure fare ma quando si risolve non lo vogliono vedere le matematiche queste cose dobbiamo fare cose rigorose p che si interessa adesso di chi? allora questo è allora il meno 1 lo metto qua meno ln di più 1 su p è 1 più 1 su p no? tutto diviso 1 su p e vedete che in effetti in questo modo bene o male visto che questo attenzione non lo posso sviluppare questo è un termine infinito 1 su p in generale però si può riscrivere questo in che modo? si può riscrivere passando a un non so z che tende a più infinito facendo la sostituzione 1 su p uguale z di meno ln di 1 più z tutto diviso z che si comporta come questo si che lo posso fare a parte che anche questo è un limite notevole come un logonimo di 1 più z 1 più z in realtà è un z per 1 più piccolo di 1 quindi si può scrivere come il limite in definitiva per z che tende a più infinito di meno ln di z su z che sappiamo essere in effetti proprio 0 e quindi sappiamo che questo tende a 0 rimane questo meno ln di 2 meno ln di 2 è un meno ln di 4 se volete perché sarebbe meno 2 ln di 2 che si può scrivere come meno ln di 4 ed e alla meno ln di 4 è un e scriviamo qua un 1 su e all'ln di 4 ma e elevato il logaritmo a 0 di 4 è 4 quindi il risultato di questo limite in definitiva ve lo fate vedere in questo modo non vi sto dicendo ragazzi che fosse il modo più breve questo ma è giusto sappiate come questa alternativa sicuramente moltissimi di voi non la conoscevano un quarto controllate e il dato di questo limite ciao ciao ciao